eccomi 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 buonasera amici e amiche rossoneri e vai buona serata di questo martedì 31 gennaio 2023 il calciomercato di riparazione invernale si sta per chiudere che ore sono mentre registro sono le ore 18 e 49 sicuramente voi starete già sentendo che il calciomercato ma stai zitto apple watch mamma mia questo qua è peggio di un interista che si lamenta praticamente avete già visto che non è successo niente come già sapevamo in questo calciomercato invernale di riparazione perché voi mi vedete dopo cioè mi vedete alle 8 praticamente quando registro perché lo ripeto queste sono le ore ma se sentite qualcosa in sottofondo so solo una cosa che non succederà niente ma questo sottofondo potrebbe venire se sentite qualcosa da sky sport perché in sottofondo mentre sto registrando ho anche un orecchio su sky sport per vedere queste ultime battute finali di questo inesistente calciomercato invernale ma non solo per noi ma per tanti altri in italia pochi pochi hanno fatto qualche colpetto da 5 milioni di euro e basta colpetto massimo vi abbraccio tutti ed è sempre uno spettacolo cioè uno spettacolo oggi perché ragazzi ieri non era uno spettacolo per niente con ragionamento che ho fatto il reale è uno spettacolo oggi perché bisogna iniziare a guardare avanti non bisogna piangersi troppo addosso sappiamo già che nel derby contro l'inter sarà una serata praticamente pesantissima non ce neanche benasser ragazzi è un disaster come diciamo qua in lombardia è un disastro spero che i nostri ragazzi si risollevino e che tutto si risolleva perché allora adesso non so se avete visto il video che sta girando di tatarasano di riscaldamento pre partita in san siro contro il sassuolo cosa è successo cioè il preparatore gli tira una stafilata per far vedere a tatarasano come parare la stafilata all'incrocio dei pali cioè sull'angolo su set cosa fa tatarasano in riscaldamento pre partita non sa parare non compara e il preparatore del minan allarga le braccia così è sconsolato le butta giù cioè praticamente anche i preparatori atletici certificano è certificato in questo video che sta girando su tiktok che praticamente ma adesso anche su tutto il web che tatarasano per noi lo dico con rispetto parlando nei confronti di tatarasano di cipria ma sei un disastro sei semplicemente un disastro umano tu dovresti vergognarti di quello che hai fatto al minan ti dovresti vergognare punto a capo basta chiuso un altro che si deve vergognare baccaio co c'è una notizia interessante baccaio co sul suo profilo instagram e twitter scrive questo annuncio siete pronti a investire nella mia carriera no baccaio co io sono pronto a vederti andare via dal minan che mai proprio ha rotto le balle perché ha fatto questo annuncio baccaio co annuncio siete pronti a investire nella mia carriera perché c'è l'olimpic marsiglia che è interessata baccaio co perché deve occupare una casella a centrocampo questo ha rifiutato il trasferimento in turchia questo ha rifiutato la cremonese questo rifiuterà anche l'olimpic marsiglia non lo so quando vedrete questo video sarà già tutto fatto e sapremo se sto baccaio co è rimasto se no comunque baccaio co tu ti sei comportato malissimo ti devi vergognare anche tu come tatarasano ti devi vergognare allora il milano oggi ha diramato un comunicato questo un video breve perché ragazzi siamo sono febbricitante per questo grandissimo calcio mercato di riparazione invernale o gli unici che hanno speso faville sono come al solito in premier league allora dovete capirla questa storia una volta per tutte o se non la capite non vivrete felici la premier league lo ripeto per la centesima volta l'ho detto ieri sera ieri nel mio penultimo video fattura troppo di più rispetto alla serie a serie a un miliardo e mezzo di diritti televisivi la premier league sei miliardi l'avete capito qual è la differenza noi in teoria se vogliamo essere più ricchi noi del milano dobbiamo andare a giocare in premier league e non stare in serie a avete capito questa è la verità punto allora sapete che ieri ho detto leao se tu ancora l'ammini con questo storia che non sai se rinnovare col milano perché non è posizionato bene tutto il resto deve poi anche andare e portarci i soldoni lupus in fabula oggi praticamente salta fuori qualche qualche pappagallo qualche gola profonda che mette in giro nell'etere che praticamente c'è stato un dissidio un litigio tra paolo maldini che vedrete che vedete protagonista la copertina di questo video e leao ma oggi cosa ti fa il milan questo eccoci qua avete visto in merito all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano la gazzetta dello sport dal titolo leao milan rottura totale per cui la gazzetta ha detto a dichiara dichiara praticamente secondo quello che dichiara poi il milan una bugia aci milan tiene a precisare che la trattativa con raffa e leao non ha subito alcuna interruzione e a questo tweet ufficiale da aci milan 1899 società per azioni praticamente leao mette subito un like e anche leao fa sapere che non c'è nessuna interruzione sul discorso dell'offerta di 7 milioni di euro netti da parte del milan per leao e un anche clausola recissoria molto alta perché la gazzetta aveva già ipotizzato tutto gazzetta dello sport giusto per farvi capire ma sbagliamo tutti in questa vita ma quanto pare sbagliano anche loro è chiaro c'è qualche gola profonda non della gazzetta non so parla che da qualcuno che ha messo questa voce ragazzi ma mi rendete conto del mondo viviamo prima di tutto io lo dico in senso generale non mi riferisco a questi della rosa ci mancherebbe in senso generale basta accendere la tv per ascoltare un telegiornale o leggere il quotidiano ogni giorno per capire che l'informazione in italia in italia soprattutto nel resto d'europa così come sa fa veramente schifo non è più un'informazione veritiera è un'informazione da mainstream pompata solo per dare in pasto alla gente quello che loro i giornalisti decidono di dare informazione obiettiva non esiste ed esistono anche queste questi personaggi che fanno queste dichiarazioni che non si capisce da dove arrivano oggi alessandro onesta guardiamo avanti e poi vi saluto ci da a proposito non so se l'avete letto o sentito zagnolo la notte scorsa la notte a cavallo tra lunedì e martedì oggi martedì che registro praticamente ha deciso di andare al bar al borbo in in inghilterra giocare per la squadra che gli ha offerto 4 milioni di euro di stipendio ma loro del barman hanno una dignità hanno detto no siamo già a posto caro zagnolo ma chi gestisce zagnolo ma chi è che lo gestisce zagnolo ma cioè adesso vorrei dire no perché questo ha capito ha fatto i conti ha detto rimango praticamente ad allenarmi da solo per i fatti miei col mio preparatore fino a giugno riuscirò ad essere un cacciatore come prima nella prossima squadra non si sa la roma subito precisato abbiamo chiesto 30 milioni di euro adesso li chiederemo anche a giugno ma voi a giugno non chiedete la mazza voi a giugno massimo chiedete 18 20 milioni di euro e andare per zagnolo alessandro onesta ha dato un'idea molto interessante lo sapete che c'è qualcuno che grida lo scandalo nella formazione fondamentalista di stefano pioli che praticamente non sa adattare il suo modulo di gioco non sa trovare soluzioni nuove insomma pioli sposa una causa quella è un disastro se ne deve andare via da mia e praticamente alessandro onesta da un'idea un'idea che praticamente sbugiarda il fondamentalismo di stefano pioli e in più affossa l'idea tecnica di stefano pioli detto da alessandro onesta e non da me chiaro qual è il concetto e praticamente si è parlato anche ultimamente di un centrocampo a tre che stefano pioli non vuole sentire non far rotare i giocatori sempre gli stessi che giocano il bicipite femorale sinistro il danno che ha subito benassero è sicuramente affaticamento da gioco sentite cosa dice alessandro onesta oggi rispetto all'anno scorso la condizione psicofisica del milan è diversa il milan gioca sempre così nel solito modo aggiungo io va sempre a prendere alti gli avversari e va uno contro uno ma nella tua metà campo devi difendere in modo diverso loro rischiano tanto e si allungano troppo anche l'anno scorso difendevano in avanti ma quest'anno non pressano più così forte e quindi va in difficoltà restano a metà e questa cosa la paghi ora credo sia per colpa della stanchezza della condizione fisica ma a lungo andare il loro calcio non è economico quello che fanno alla lunga lo paghi fisicamente morale della favola alessandro onesta boccia pioli e boccia i suoi preparatori e a proposito non solo i preparatori atletici di stefano pioli che dovrebbero consigliare bene stefano pioli ma anche gli esperti tattici di stefano pioli praticamente nesta mette una pietra tombale su questo tecnico e tutti quelli che lavorano per lui forza mina sempre comunque ovunque oggi lo dico è uno spettacolo perché dobbiamo guardare avanti vi mando un abbraccio ciao amici ciao amiche ciao